Un incubatore di imprese pensato e organizzato all'interno di un istituto scolastico nel quale gli studenti hanno elaborato start-up e idee per attività imprenditoriali possibili. Si chiama Grani Digitali ed ha come protagonisti gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto Pascal di Foggia. C'è bisogno che i ragazzi nei loro percorsi in età di formazione ricevono gli strumenti della cultura di impresa. Oggi l'imprenditore non esiste nel loro immaginario. Parlano di dottore, architetto, ingegnere, ma certamente non l'imprenditore. Ecco, questo la dice lunga sul gap che noi abbiamo e che paghiamo rispetto ad altri territori. Dobbiamo crescere tantissimo nella cultura di impresa. Una finestra sul mercato del lavoro e per l'acquisizione di una cultura di impresa. Gli imprenditori convocati in Camera di Commercio ascoltano le proposte imprenditoriali dei ragazzi. A farla da padrone sono le app e le idee di impresa digitale. Ci siamo occupati di realizzare un'applicazione che ha come scopo quello di poter unire tutte le applicazioni di prenotazioni, TripAdvisor, Booking, di unirle tutte in una singola applicazione e di fornire una vastità di servizi prenotabili che permetta ad ogni utente di poter fornire servizi e di poterli prenotare. Le start-up secondo me sono un ottimo inizio per noi giovani perché comunque ci danno l'opportunità insieme a grandi digitali di ampliare comunque il mondo del lavoro, il nostro futuro. Un'esperienza fantastica specialmente con l'aiuto dei nostri professori che ci hanno aiutato davvero tanto e anche le aziende, ringraziamo noi ragazzi che ci hanno dato questa opportunità. Un'esperienza formativa che mi ha dato la possibilità di interfacciarmi con molte aziende, con persone che fanno parte del mondo del lavoro.